Parliamo degli interessi passivi per quanto riguarda i mutui per l'acquisto della prima casa. Infatti, esiste la possibilità di ottenere una detrazione IRPEF nel momento in cui si presenta la dichiarazione dei redditi e c'è una detrazione del 19%. La detrazione fiscale si applica nel momento in cui vengono presentate le spese relative all'anno fiscale di riferimento, ovvero quello precedente alla presentazione della dichiarazione. Le detrazioni fiscali che sono normalmente previste per le spese sulle abitazioni riguardano solitamente gli interessi per i mutui contratti nel 1997 per il recupero edilizio, gli interessi per i mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa o interessi per i mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili, interessi per i mutui ipotecari che sono stati accesi per la costruzione dell'abitazione principale, interessi per prestiti o mutui agrari, interessi e spese per canoni di affitto sostenuti dagli studenti universitari. Tutte queste spese sono incluse nella detrazione del 19%. Per quanto riguarda invece gli interessi che riguardano il mutuo sulla prima abitazione, dobbiamo fare alcune precisazioni. Infatti per prima casa si intende la prima abitazione in cui si dimora abitualmente ed è possibile portare a detrazione del 19% sugli IRPEF gli interessi del mutuo come prima casa. Nelle istruzioni delle agenzie delle entrate viene spiegato quali sono gli immobili che si possono considerare prima casa. Per abitazione principale quindi si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo anche se l'immobile è adibito abitazione principale di un suo familiare. Cioè se l'immobile è adibito dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado. La comunicazione dell'agenzia delle entrate chiarisce anche che le agevolazioni sono previste nel momento in cui sono presenti delle spese a carico del contribuente. Non è prevista dunque una ulteriore agevolazione nel caso in cui il mutuo sia sommenzionato dallo Stato o da enti di natura pubblica. Generalmente è necessario adibire a prima casa l'immobile che è stato acquistato con detrazione purché venga poi effettivamente utilizzato come prima casa entro l'anno dall'acquisto. L'eccezione riguarda il caso in cui si acquisti un immobile soggetto a ristrutturazione. Nel momento in cui il mutuo prima casa venga richiesto su un'abitazione che si trova infatti in fase di ristrutturazione la detrazione sarà applicata quando l'immobile verrà effettivamente adibito a prima casa e ciò dovrà accadere entro due anni dal momento in cui si acquista l'abitazione. Si può ridurre sugli interessi il mutuo della prima casa fino a un massimo di 4.000 euro da ripartire in modo uguale tra gli intestatari del mutuo. La detrazione scende a 2.065 euro circa per ogni intestatario se durante l'anno l'immobile non è più utilizzato come prima casa. Comunque l'Agenzia delle Entrate ha creato una guida dove spiega anche come procedere con la compilazione corretta delle informazioni e ricorda che non è possibile accedere alle detrazioni fiscali su interessi mutuo prima casa in determinati casi cioè i mutui concordati nel 1991 o 1992 per motivi che non sono collegabili alla prima casa i mutui accesi dal 1993 con motivi diversi da quelli da adibire l'immobile a prima casa ad esclusione dei mutui concordati nel 1997 per la ristrutturazione e i mutui dal 1998 per ristrutturazione della prima casa. Va ricordato anche che per poter ottenere le detrazioni fiscali relativi agli interessi passivi del mutuo della prima casa è necessario conservare e tenere anche dopo la presentazione del modello 730 tutta la documentazione che attesterà il mutuo quindi il contratto iniziale stipulato, la prova delle fatture o dei bonifici per il pagamento del mutuo i documenti che attestano il pagamento degli interessi passivi del mutuo la documentazione che certifica che l'immobile è adibito a prima casa eventuali altri documenti che sono relativi a ristrutturazione o carte specifiche per l'immobile.